Mentre ci accingiamo a ottenere, come ci auguriamo tutti, maggiori poteri dalla burocrazia, dallo Stato centrale, ci organizziamo affinché questi maggiori poteri funzionino e siano attuati nel modo giusto. Così il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Enrico Boselli, ha sintetizzato i motivi che hanno portato al progetto di legge presentato oggi a Bologna in una conferenza stampa. Il disegno porta la firma della Giunta regionale e ha come obiettivo la riforma e la ripartizione delle competenze fra la Giunta e il Consiglio regionali. Rientra in un'ampia operazione di autoriforma, che prevede tra l'altro la disciplina della dirigenza, la minore ma più efficace produzione legislativa e il riordino di enti, società e istituti. Il provvedimento è stato illustrato anche dal Vice Presidente della Regione, Pierluigi Bersani. Lo scopo principale è una migliore definizione dei ruoli amministrativi, a tutto beneficio dell'efficienza, della trasparenza e del controllo. Grazie anche all'utilizzazione dei sistemi informatici si mira a uno snellimento nei meccanismi decisionali e a un accorciamento dei tempi. I settori in cui il Consiglio ha competenza, secondo la legge, riguardano programmazione, attuazione delle direttive CE, rapporti con le altre regioni, nomine e incarichi. Il provvedimento elenca anche tutte le competenze di governo, gestionali e operative della Giunta nell'ambito degli stessi settori.